Ciao, benvenuti nella tavola periodica di WOW. Questo indispensabile oggetto ti servirà per avere le più importanti informazioni riguardanti la chimica, mentre studi per il test di ammissione ai corsi medico-sanitari. Durante il tuo studio, la nostra tavola periodica dovrà essere ovviamente integrata con altri materiali didattici come le lezioni, i libri e la stessa tavola periodica completa. Sarà poi un ottimo mezzo anche per ripassare, una volta acquisiti tutti gli argomenti. Andiamo a vederla nel dettaglio. Vediamo qui, rappresentati nelle icone più grandi, tutti gli elementi più importanti e che si trovano di più nei quiz del test. I colori e i blocchi ci fanno categorizzare e distinguere le varie sottofamiglie, così come indicato nel box successivo. Familiarizza con questi elementi il prima possibile per poter rispondere al meglio a tutti i quesiti di chimica. In questo box, in corrispondenza di ogni colore, vedrai la famiglia corrispondente con le sue caratteristiche, ad esempio in rosa abbiamo i metalli alcalini del gruppo 1 con configurazione elettronica NS1 e che appartengono al blocco S, oppure gli alogeni non metalli del gruppo 17, in colore azzurro, che appartengono al blocco P. I blocchi indicano gli orbitali che sono in completamento, ad esempio il gruppo S, S1 ed S2, gruppo D, dal D1 fino a D10, e così via. Ecco un altro box importantissimo, infatti vi svegliamo il trucco per poter andare a conoscere tutti i numeri di ossidazione di tutti gli elementi. Sarà necessario ricordarsi solo quelli fissi, come l'ossigeno e l'idrogeno, che ci permetteranno di calcolare quelli che invece hanno diversi numeri di ossidazione, come lo zolfo. Nell'esempio mostrato c'è il calcolo tramite equazione per conoscere il numero di ossidazione dello zolfo nell'acido solforico. Dopo averlo visto, sono sicuro che riuscirai a trovare qualsiasi numero di ossidazione. Provare per credere! Abbiamo necessariamente aggiunto anche i metodi per ricordare e scrivere la configurazione elettronica di tutti gli elementi della tavola periodica, sia conoscendo il gruppo a cui appartiene l'elemento, sia conoscendo il numero atomico. E poi, non può esistere tavola periodica senza le proprietà periodiche, perfettamente riassunte in questo box. Raggio atomico, energia di ionizzazione e affinità elettronica, sempre a portata di mano. E in questo specchietto, ecco mostrato come queste proprietà cambiano lungo un periodo da sinistra verso destra, o da destra verso sinistra, oppure dall'alto verso il basso, o viceversa. Più riusciamo a fare ordine con queste informazioni, più ce le ricorderemo facilmente. Ed ecco perché è necessario avere sempre a portata di mano la nostra tavola periodica. Infine, abbiamo dedicato un box alle nostre bellissime mnemotecniche, per poterci ricordare degli elementi di tutti e diciotto i gruppi. Queste sono certificate dai nostri tutor WOW! Perfetto, vi auguro buon studio e mi raccomando, fate il buon uso della nostra tavola periodica. Ciao!